Benvenuti nel podcast di SexSolution, tecnologia e formazione sulla sicurezza. Sono l'avvocato Roberta Rapicavoli, esperta in privacy e diritto informatico, e in questa puntata parlerò della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, spiegando in cosa consista e quando sia necessario effettuarla con riferimento ai trattamenti di dati personali svolti tramite un sistema di videosorveglianza. L'articolo 35 del Regolamento europeo 2016-679 pone per il titolare l'obbligo di effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel caso in cui il trattamento da avviare, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare dei rischi elevati per i diritti e le libertà dell'interessato. Quali sono i trattamenti legati a un sistema di videosorveglianza che possono presentare un rischio elevato e dunque richiedere l'obbligo di effettuare la valutazione d'impatto? Un primo caso è riportato nello stesso articolo 35 del Regolamento, laddove è indicato che la valutazione va effettuata nell'ipotesi di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. Quindi il riferimento è ad esempio a un sistema di videosorveglianza installato all'ingresso di un parco o di un grande centro commerciale in quanto le riprese interesserebbero un numero elevato di soggetti in una zona accessibile al pubblico. Vi sono ulteriori casi in cui il trattamento da avviare tramite la videosorveglianza può comportare un rischio elevato e dunque occorre effettuare la valutazione d'impatto. Quali? Come capire se il rischio è elevato e quindi se occorre effettuare la valutazione d'impatto? Al fine di verificare se il rischio possa considerarsi elevato, il gruppo di lavoro articolo 29, nelle linee guida in materia di valutazione d'impatto adottata nel 2017, individua nove criteri, ritenendo che la presenza di due o più di tali criteri renda maggiormente probabile che il trattamento comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e quindi di conseguenza che sia necessaria una valutazione d'impatto. Tra i criteri che possono rilevare quando parliamo di videosorveglianza ritroviamo il monitoraggio sistematico, il trattamento di dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale, il trattamento di dati su larga scala, il trattamento di dati relativi a interessati vulnerabili e poi l'uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche organizzative. Secondo quanto indicato nelle citate linee guida, nella maggior parte dei casi un trattamento che soddisfa due o più dei suddetti criteri deve formare oggetto di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Ad esempio, come evidenziato proprio dal gruppo di lavoro nelle citate linee guida, la valutazione d'impatto dovrebbe essere effettuata nel caso di utilizzo di un sistema intelligente di analisi video per individuare le auto e riconoscere automaticamente le targhe, in quanto sussisterebbero due dei criteri indicati, quali il monitoraggio sistematico e l'uso innovativo o l'applicazione di soluzioni tecnologiche organizzative. Quindi, in questo caso, andrebbe svolta la valutazione d'impatto. Proprio applicando i criteri indicati nelle linee guida del 2017, il garante privacy ha fornito un elenco di tipologie di trattamenti soggetti a requisito di una valutazione d'impatto, elenco allegato al provvedimento dell'11 ottobre 2018. Ora, limitando l'analisi ai trattamenti tramite videosorveglianza, secondo l'elenco redatto dal garante privacy, occorre svolgere la valutazione d'impatto in quali casi? Allora, nel caso di trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici, dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Il rischio elevato sussiste infatti in tali ipotesi perché? Perché si impiegherebbe la videosorveglianza per riprendere soggetti considerati dalla normativa vulnerabili, cioè i dipendenti. Quindi, se si decide di installare un sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, ad esempio per tutela del patrimonio o per esigenze organizzative o produttive o per fini di sicurezza, e se le telecamere possono inquadrare i lavoratori, ecco è necessario effettuare la valutazione d'impatto. Devono poi essere sottoposti a valutazione d'impatto, secondo quanto definito dal garante privacy nell'elenco a cui ho fatto prima riferimento, anche i trattamenti di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 9, quali sono per esempio i dati relativi allo stato di salute, e i trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto in particolare del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, e dell'attività di trattamento. Si tratta di trattamenti che possono essere svolti anche attraverso un sistema di videosorveglianza, ad esempio. Per quanto riguarda i dati biometrici, possiamo pensare a un sistema di riconoscimento facciale tramite biometria, per monitorare gli accessi ad aree aziendali che richiedono un controllo specifico. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute, possiamo pensare all'installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un ospedale per monitorare le condizioni di salute di un paziente, caso in cui vi sarebbe un trattamento di dati particolari, peraltro riferiti anche a un soggetto vulnerabile. E ancora, ritroviamo nell'elenco fornito dal garante privacy, come ulteriore caso in cui si individuano dei rischi elevati e quindi occorre effettuare la valutazione d'impatto, anche l'ipotesi di trattamento effettuato tramite sistemi intelligenti o comunque tramite l'impiego di tecnologie innovative. Quindi, se il sistema che si vuole utilizzare può comportare dei rischi elevati, occorre effettuare una valutazione d'impatto. Chiediamoci però adesso cosa debba contenere tale valutazione. Allora, la valutazione d'impatto, indipendentemente dalla metodologia utilizzata, deve contenere almeno gli elementi indicati nell'articolo 35 del regolamento al comma 7, ossia una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e una descrizione delle finalità del trattamento, compreso, ovvero applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare. Interesse, ad esempio, è la tutela del patrimonio aziendale. Ancora, occorre riportare una valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti, ovviamente in relazione alle finalità perseguite. Occorre poi riportare una valutazione dei rischi per i diritti e delle libertà degli interessati e le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto ovviamente dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone coinvolte nel caso appunto in cui si voglia installare un sistema di videosorveglianza. Ultimo aspetto, chi è tenuto ad effettuare la valutazione d'impatto? Allora, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è adempimento che compete al titolare del trattamento. Per la sua corretta esecuzione però devono essere coinvolti a vario titolo altri soggetti. Innanzitutto, una figura che riveste un ruolo fondamentale rispetto all'adempimento in esame è il responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer, DPO. Il regolamento stabilisce infatti che il titolare del trattamento debba consultarsi con il DPO, ovviamente qualora sussissa perché sappiamo che è una figura non sempre obbligatoria. Secondo quanto indicato dal gruppo di lavoro articolo 29, nelle linee guida sui responsabili della protezione dei dati, il coinvolgimento del DPO dovrebbe riguardare tra l'altro se condurre o meno una valutazione d'impatto. Quale metodologia adottare nel condurla? Se utilizzare risorso interno o esterne? Quali salvaguardi applicare per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone? Spetta poi al DPO fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto effettuata e sorvegliarne anche lo svolgimento, indicando se sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi alla normativa. Oltre al DPO, nello svolgimento della valutazione d'impatto rivestono un ruolo importante anche coloro che sono coinvolti nelle attività oggetto di valutazione come responsabili del trattamento, quali sono ad esempio i soggetti che prestano attività di assistenza tecnica e sistemistica sull'impianto. Infatti, qualora il trattamento per cui si effettua la valutazione venga eseguito in tutto o in parte da un responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad assistere il titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto e deve fornire tutte le informazioni necessarie. Infine, rivestono un ruolo importante anche i soggetti che abbiano specifiche competenze e responsabilità sugli aspetti da analizzare durante la valutazione d'impatto. Pensiamo ad esempio, nel caso della videosorveglianza, alle persone interne o esterne alla struttura del titolare che si occupano dei profili di sicurezza, profili che devono essere riportati all'interno della valutazione d'impatto in quanto sono centrali per ridurre i rischi e per verificare se poter avviare o meno il trattamento. Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast Sex Solution. Nella descrizione trovate i collegamenti ai siti con contenuti e corsi tematici.